Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio, Nicola Giannattasio. La strada regionale 429 bis è chiusa in entrambi i sensi di marcia tra Certaldo e Poggi Molsi per il ribaltamento di un'autocisterna contenente ipoclorito di sodio nei pressi di Badia Elmi, frazione di San Gimignano. La circonvallazione di Certaldo rimarrà chiusa al traffico per diverse ore, il transito dirottato sulla circonvallazione interna. In a uno coda tra Barberino del Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione Firenze per traffico intenso. Sul raccordo Siena-Bettolle rallentamenti per lavori tra le serre di Rapolano e Rigomagno e Sinalunga in entrambe le direzioni. Sulla Statale un'Aurelia rallentamenti per lo stesso motivo tra Montalto di Castro e Pescia Romana in direzione Genova. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!